Ovviamente sono io che ringrazio dell'invito, sono un po' intimorito a parlare di fronte a tutte queste persone, immagino che Wittgenstein avrebbe sicuramente rifiutato di partecipare a una Kermess di questo tipo, ma Wittgenstein è morto nel 51 e le cose vanno avanti, si può anche parlare a un pubblico abbastanza vasto, neuffemismo, rispetto ai pochi allievi che selezionava Wittgenstein per le sue elezioni. Allora parto dal titolo della relazione, che è giochi linguistici. Non l'ho scelto io e non l'avrei mai scelto se fosse di peso da me. È stata l'organizzazione del festival che mi ha detto di parlare dei giochi linguistici e io ho aggiunto il sottotitolo. Ma non è una buttata. Perché ho difficoltà, dopo tanti anni che studio Wittgenstein, a usare l'espressione gioco linguistico? Perché l'espressione gioco linguistico è diventata un'espressione così usata e abusata, per cui tutto è diventato gioco linguistico, per cui si sente parlare della religione come di un gioco linguistico, della politica come di un gioco linguistico, dell'arte come di un gioco linguistico. Lo stesso Wittgenstein ha un po' contribuito in alcuni passaggi a questo fraintendimento, secondo me, di quello che lui stesso pensava, al punto che in della certezza, una delle ultime cose che ha scritto, ha usato l'espressione gioco linguistico umano al singolare, gioco linguistico umano, che è difficilissimo capire come questa espressione si accordi con le cose, altre cose che Wittgenstein dice e scrive. Ma ovviamente, come diceva, non mi ricordo il nome, Marco del Pozzuolo, gioco linguistico è una sorta di marchio di fabbrica, un brand di Wittgenstein e quindi affrontare la questione del linguaggio di Wittgenstein e tutte queste cose richiede anche che ci si misuri con questa nozione e in parte lo farò. Credo che occorra però iniziare con una questione più generale, altrimenti poi mi sarà difficile spiegare che cosa dirò sui giochi linguistici in Wittgenstein. La questione più generale, detta un po' genericamente, è perché Wittgenstein si sia interessato al linguaggio. Qualche anno fa è uscito, qualche decennio fa, un libricino molto interessante, tradotto anche in italiano col titolo Linguaggio e Filosofia di Jan Eking, che nell'edizione originale si chiamava Perché il linguaggio interessa alla filosofia? Tenete conto che questo titolo e questa questione apparteneva a degli anni in cui la cosiddetta svolta linguistica in filosofia era una sorta di luogo comune. Affermazioni come tutto è linguaggio erano quasi pari all'affermazione tutto è interpretazione. L'idea, il linguaggio era la casa dell'essere secondo Heidegger, era per Gadamer il luogo di ogni comprensione e interpretazione e si diceva anche in Wittgenstein che il linguaggio in qualche modo è l'inizio e la fine. Non a caso alcuni autori in quegli anni si erano posti il problema se Wittgenstein era o meno un idealista linguistico. Questa espressione idealismo linguistico è un'espressione che aveva, era di uso corrente, per esempio nei primi anni in cui io studiavo Wittgenstein, ne ha scritto una delle allievi più famose di Wittgenstein, che adesso è quasi più famosa di Wittgenstein, almeno nel mondo anglosassone, che è la Hanscombe, ne ha scritto Bernard Williams, cioè chiedendosi se Wittgenstein era o no un idealista linguistico. Che cosa sia l'idealismo linguistico è un po' difficile da precisare, ma in qualche modo l'idea che la filosofia ha a che fare con il linguaggio è che il linguaggio in qualche modo è il luogo in cui, per usare un linguaggio un po' continentale, noi incontriamo il mondo se non noi costituiamo il mondo. Ecco, allora, in tutto questo è interessante chiedersi perché Wittgenstein si è interessato del linguaggio o al linguaggio, o addirittura se a Wittgenstein è attribuibile davvero la cosiddetta svolta linguistica o è uno dei partecipanti a questa cosiddetta svolta linguistica. Saprete forse che la diffusione di questa espressione, svolta linguistica, è dovuta in parte a Rorty e in parte a Dammet, che l'hanno presa di uso comune, ma questo è poco importante. Allora, se andiamo a vedere, perché Wittgenstein, in quanto... Chiedi di tenere il microfono più vicino, perché in fondo non sentono bene. Se... io sono abituato a fare lezioni in piedi, camminando su e giù, quindi legato al microfono mi sento... scusatemi. Anche sta staccato. No, vabbè. Allora, se andiamo a vedere le cose che Wittgenstein dice in quanto filosofo, del perché si sia interessato al linguaggio, beh, cominciamo a vedere che Wittgenstein dà delle risposte non così ovvie e non così scontate. Ecco, per esempio, se noi leggiamo il Tractatus, sapete che il Tractatus è la prima grande opera di Wittgenstein pubblicata nel 22, se volete una cosa tra parentesi. Fino a qualche mese fa, ogni volta che uno diceva pubblicata nel 22, doveva dire, in realtà una prima edizione uscì nel 21, negli Annale in Der Natur Philosophie, ma era poco importante. Oggi hanno scoperto che anche se la rivista portava 1921, è uscita nel 22 e quindi siamo tranquillissimi, possiamo dire che il Tractatus è stato pubblicato nel 22. Io ho tirato un sospiro di sollievo perché permette di evitare almeno una riga ogni volta che si cita il Tractatus. Siccome non è una scoperta mia, si deve a uno studioso americano di Wittgenstein che si chiama James Klage, quindi diamo a Klage quello che è di Klage. Allora, se leggiamo il Tractatus Logico-Philosoficus, troviamo che Wittgenstein dice che, per esempio, 4003, proposizione del Tractatus, la maggior parte delle domande e delle proposizioni dei filosofi hanno la loro origine nella mancata comprensione della logica del nostro linguaggio. Qui è pieno di persone che non hanno compreso la logica del nostro linguaggio, dal punto di vista di Wittgenstein, nella misura in cui ci dichiariamo filosofi, è una battuta. Questo è nel Tractatus. Nelle ricerche filosofiche Wittgenstein dice che i problemi filosofici, a differenza dei problemi scientifici, lui li chiama anche empirici, sono problemi che sorgono per via di un fraintendimento delle nostre forme linguistiche. quindi questo è un primo aspetto. La filosofia nasce da un fraintendimento della logica del linguaggio oppure, diciamo il secondo Wittgenstein per comodità, della grammatica del linguaggio. Allora, se il filosofo si interessa del linguaggio è per fare i conti con una filosofia che nasce da una mancata comprensione della logica o del linguaggio. Quindi, vedete, l'interesse non è per il linguaggio in quanto tale. È per lo statuto dei problemi filosofici e per un atteggiamento che alcuni chiamerebbero di dissoluzione dei problemi filosofici. Risolvere un problema filosofico vuol dire mostrare che non era un problema filosofico, cioè che non era un problema autentico, nel senso in cui è un problema autentico, un problema scientifico della fisica, della chimica, della biologia, eccetera, eccetera. Vedete che vi ho citato il Tractatus e le ricerche filosofiche, perché Wittgenstein non ha mai cambiato posizione su questo. Lo ha detto anche esplicitamente, per esempio, nelle lezioni che George Moore annotò, Wittgenstein a un certo punto avrebbe detto, secondo Moore, ma Moore era abbastanza fedele su questo, che se si occupava del linguaggio non era perché pensasse che il linguaggio fosse l'oggetto di studio proprio della filosofia, ma solo perché riteneva che certi particolari errori filosofici o confusioni del nostro modo di pensare fossero dovute a false analogie suggerite dall'uso corrente di certe espressioni. Era per questo che egli da filosofo si limitava a discutere unicamente quelle questioni filosofiche le quali, se non chiarite, avrebbero altrimenti condotti a quei particolari errori o confusioni. Cioè Wittgenstein non si riteneva un linguista, non si riteneva un filosofo del linguaggio nel senso in cui oggi in un corso universitario noi vediamo filosofia del linguaggio e spesso in alcuni casi è difficile capire se si sta facendo linguistica generale o filosofia del linguaggio. Si riteneva un filosofo che si interessava del linguaggio proprio perché nel linguaggio nascevano, avevano la loro origine e le confusioni filosofiche. Ecco perché Wittgenstein arriverà a dire nel Tractatus, proposizione 40031, citare del Tractatus, il Tractatus mi fa sempre sentire una specie di sacerdote, come dice Isaia 12, 14, Tractatus 40031, in cui dice tutta la filosofia, tutta la filosofia, non qualche aspetto della filosofia, qualche regione della filosofia, tutta la filosofia è critica del linguaggio. Wittgenstein mette critica del linguaggio tra virgolette perché sta riprendendo un'espressione critica del linguaggio che contributi a una critica del linguaggio che era il titolo di un'opera in diversi volumi e di centinaia e centinaia di pagine dovuta a un pensatore, a un filosofo, a un intellettuale oggi quasi sconosciuto, che si chiamava Fritz Mautner, tanto è vero che subito dopo Wittgenstein dice è critica del linguaggio non nel senso di Mautner, ma nel senso per esempio di Russell, ma questo entreremo in questioni troppo di dettaglio. Un'altra questione, ma ve l'accenno solo per chi magari vuole a partire da qui approfondire alcune di queste cose, questa critica del linguaggio si può intendere e alcuni l'hanno intesa in senso kantiano, cioè critica del... esiste un'interpretazione kantiana di Wittgenstein, si è parlato addirittura di kantismo linguistico, in cui invece una volta identificata sulla base della filosofia tedesca pre-romantica e romantica, la ragione con il linguaggio, Herder, Hammann, von Humboldt, la critica della ragione diventa critica del linguaggio e quindi questo sarebbe un segno del kantismo linguistico. Io sono totalmente contrario alle letture kantiane di Wittgenstein e non penso che qui lo usi in senso kantiano, però è un problema e nemmeno Mautner lo usava in senso kantiano quando parlava di critica del linguaggio. Dopo vi farò un accenno a chi stava pensando Wittgenstein probabilmente, visto che è stato citato Nietzsche. Per dire che la posizione non cambia, cioè che l'idea che la filosofia è critica del linguaggio rimane, nelle ricerche filosofiche, cioè alcuni decenni dopo, paragrafo 109, Wittgenstein dice la filosofia è una lotta contro l'ammagliamento del nostro intelletto condotta con gli strumenti del nostro linguaggio. E questo passo è interessantissimo perché nello stesso tempo il linguaggio è la sorgente delle confusioni filosofiche, ma le confusioni filosofiche vanno risolte con gli strumenti del nostro linguaggio, non uscendo dal linguaggio. Allo stesso tempo, se nascono dal fraintendimento della logica, il problema eventualmente è una migliore comprensione della logica del nostro linguaggio. Vi faccio un esempio per capire cosa intende Wittgenstein quando parla, per esempio, di confusioni filosofiche. Per esempio, secondo Wittgenstein, una delle grandi confusioni filosofiche è confondere quelle che lui chiama proposizioni grammaticali con le proposizioni empiriche. Addirittura arriverà a dire che la fonte di tutta la metafisica e di tutte le confusioni filosofiche e di tutte le confusioni è confondere il grammaticale con l'empirico. Vi faccio un esempio per capire che cosa ha in mente Wittgenstein. Prendiamo una mela. Io posso dirvi... avevo anche... non sono andato avanti, non credevo ci fosse... io ce l'ho la mela qui. Allora, io posso dirvi, disegna una mela col picciolo, disegna una mela senza picciolo. Voi, se siete dei bravi disegnatori, mi fate due bellissime mele, una col picciolo e una senza picciolo. Se non siete dei bravi disegnatori, mi fate una cosa... questa rasenta la perfezione. Ecco, ok. Questa è una cosa facilissima da fare, disegnare una mela senza picciolo. Prendiamo un righello. Io vi dico, disegna un righello senza lunghezza. La prima cosa che viene in mente è, visto che è un righello, tolgo le linee che indicano le linee di misurazione e restiamo semplicemente con un bastone, un bastoncino, una piccola asta. E io vi dico, ok, hai levato questo, ma non era... non volevo che tu levassi le linee di misurazione. Voglio che tu mi disegni un'asta senza lunghezza. il che vuol dire che tutte le mele hanno un picciolo, sono dal punto di vista di Wittkis una proposizione empirica. Noi possiamo benissimo immaginare, addirittura disegnare delle mele senza picciolo. Ma tutte le aste hanno una lunghezza. Vedete che ha esattamente la stessa forma. Tutte le mele hanno il picciolo, tutte le aste hanno la lunghezza. Però non hanno la stessa funzione. Possiamo dire nello stesso uso. Il che vuol dire che se io produco l'enunciato, questa asta non ha una lunghezza, non ho detto qualcosa di falso. Ho prodotto un non senso. E quindi questa ha... tutte le aste hanno una lunghezza, non mi dà informazioni sulle aste, ma serve a escludere dal nostro linguaggio come insensate certe combinazioni di parole. Ma qui, a parte questo esempio, la cosa interessante è che il linguaggio sembra non segnalare questo. Perché dal punto di vista di quella che Wittkis potremmo chiamare forma superficiale o grammaticale, tutte le aste hanno una lunghezza, è uguale a tutte le mele hanno dei piccioli. Vi faccio un altro esempio che fa Wittgenstein, che non lo fa proprio così, ma glielo metto io in bocca prendendo delle cose che fa. Mettiamo che di una persona, io dica, ha un cuore grande così. Voi intendete che stia usando un po' metaforicamente questa cosa per dire che è una persona molto generosa. Ma mettiamo che dopo che io ho detto ha un cuore grande così, qualcuno di voi mi chieda, grande quanto? E Wittgenstein abbonda di questi esempi. Mi è passata per la mente un'idea. A che velocità? A che velocità? Vedete che in questo caso è come se noi assimilassimo usi diversi di enunciati parole che hanno funzioni diverse ma si presentano uguali. Potremmo dire alla superficie, solo che qui non c'è una profondità nelle ricerche filosofiche, nel senso che dobbiamo scavare nel linguaggio. Dice Wittgenstein, non devi scavare, devi vedere quello che avviene prima o dopo quello che tu dici. O chiederti perché sei portato, perché vorresti dire che ogni asta ha una lunghezza. E così via. Ecco, chi legge Wittgenstein a un certo punto anche si perde il tempo scorre. Un altro esempio. Scorre come un fiume. o non parliamo poi di tutte le cose che oggi andrebbero sotto le categorie di psicologia filosofica o di filosofia della mente. Non posso provare il tuo dolore. Cosa vuol dire qui non posso? Come usiamo non posso? È una specie di impossibilità metafisica che io non posso accedere alla tua interiorità? O è un modo, per così dire, o abbiamo a che fare con una proposizione grammaticale del tipo ogni asta ha una lunghezza. Al punto che nelle ricerche filosofiche Wittgenstein arriverà a dire cose di questo genere. non usa questo esempio, ma visto che ho introdotto l'esempio, dire io non posso, non si può provare il dolore degli altri equivale a il solitario si gioca da soli. Cioè, il solitario si gioca da soli, ci dà un'informazione sul concetto di solitario, non posso provare il dolore degli altri, ci dà un'informazione, diciamo così, non sul dolore, sulla realtà, sul nostro concetto di dolore. Questo era per dire il tipo di lavoro che fa Wittgenstein. Ovviamente è un lavoro sul linguaggio, ma è un lavoro motivato filosoficamente. Da un certo punto di vista, Wittgenstein è un filosofo ultra tradizionale. troviamo tutti i presunti problemi della traduzione, la realtà esterna, le altre menti, tutte queste cose qua. Non è uno che dice tutta sta roba qua non ci interessa. È solo ci interessa nella misura in cui sono confusioni, ma sono confusioni profonde. Uno, qui c'è un problema che vi accenno solo, e provate a pensarci a casa, soprattutto chi conosce Wittgenstein, compiti per casa. Non potremmo dire che allora la filosofia di Wittgenstein è una filosofia solo per filosofi. Cioè, è una filosofia che può interessare solo i filosofi. Solo il filosofo cade in confusioni filosofiche. E quindi il filosofo cura, e siccome Wittgenstein ritiene di essere caduto in moltissime confusioni filosofiche, il filosofo cura se stesso, da un certo punto di vista. Ecco, però ci sono tanti passi in cui Wittgenstein sembra suggerire che anche, chiamiamolo l'uomo comune, anche nell'uomo comune alberga il filosofo. E vi faccio un esempio che è famosissimo. Wittgenstein aveva un allievo e amico che si chiamava Norman Malcolm, che ha scritto tantissimo su Wittgenstein. Vabbè, non dico la cosa che dico sempre su Norman Malcolm, no, dopo ve la dico. A un certo punto, prima della Seconda Guerra Mondiale, Wittgenstein e Malcolm stavano leggendo il giornale e lessero la notizia secondo cui gli inglesi avrebbero tentato di uccidere Hitler. Malcolm disse Ma no, non appartiene alla mentalità degli inglesi fare una cosa del genere. Scusate l'espre... No, non la dico. Wittgenstein si arrabbiò tantissimo. Non parlò per mesi a Malcolm. E a un certo punto, mesi dopo, gli scrisse Ma che cosa serve imparare da me qualcosina di logica di queste cose se dopo non cadi in queste confusioni? Cioè produci la nozione di mentalità, per esempio. Che cos'è sta mentalità inglese? Come hai costruito questa nozione? E quando Wittgenstein e Piero Sraffa, il famoso economista, si incontravano a discutere assieme, leggevano i giornali e smontavano le confusioni filosofiche che trovavano, per esempio, sulle notizie che raccontavano quello che succedeva nella guerra spagnola, nella guerra civile spagnola. Ecco. Quindi è vero che Wittgenstein in qualche modo può apparire come un filosofo dei filosofi. Ma se non dimentichiamo due cose, che Wittgenstein non si chiama fuori, cioè Wittgenstein è il medico ma anche il malato, per così dire, e che Wittgenstein riteneva che in molti nel modo in cui noi parliamo di, per esempio, di cose come la mentalità, la razza e altre cose, ci sia molto di filosofico su cui la filosofia può lavorare. Detto tutto questo, vi ho detto tutto questo e l'ho tirata anche per le lunghe, per dire che quando si parla di giochi linguistici e quando si parla di uso in Wittgenstein, bisogna subito resistere alla tentazione di dire ecco, queste sono le risposte che Wittgenstein dà alla domanda che cos'è il linguaggio, che cos'è il significato. Allora, noi diciamo che cos'è il significato non è il riferimento dei termini, non è l'immagine mentale associata ai termini, non è qualche entità astratta platonica, ma il significato è l'uso. Quando diciamo che cos'è il linguaggio, il linguaggio non è una struttura formale, eccetera, eccetera, ma il linguaggio è un insieme di giochi linguistici. Cioè, ci troviamo di fronte a un filosofo che produce in qualche modo una teoria del linguaggio, una teoria semantica. Allora, ovviamente alcuni interpreti di Wittgenstein dicono, per esempio Crispin Wright, è praticamente impossibile mettere d'accordo quello che Wittgenstein dice sulla filosofia con quello che effettivamente fa. Nella filosofia dice che non ci sono teorie, non ci sono spiegazioni, non ci sono deduzioni, e poi presenta la sua teoria che noi possiamo discutere come più o meno valida e se possiamo fare una critica è che invece di portare a fondo queste teorie troviamo solo degli abbozzi e allora se vogliamo fare un lavoro filosofico serio dobbiamo eventualmente prendere queste intuizioni di Wittgenstein e svilupparle. In questo senso molti filosofi analitici vedono in Wittgenstein se non il loro padre almeno il loro nonno. Non si può dire nonno perché Dammet ha detto che Frege era il nonno della filosofia analitica quindi diciamo un secondo nonno o un padre e ci sono altri che dicono ma ci sono delle contraddizioni è vero ma non si può capire Wittgenstein se non si capisce la sua concezione della filosofia e altri per esempio i cosiddetti neo-wittgensteiniani che dicono non c'è nessuna contraddizione siete voi che vedete teorie in Wittgenstein siete voi che vedete dottrine ma Wittgenstein è perfettamente coerente dall'inizio alla fine con la sua idea che la filosofia è critica del linguaggio che in filosofia non si costruiscono teorie eccetera eccetera ecco ora non è il nostro né mio né vostro districare tutte queste questioni ma proviamo a leggere con questo spirito quello che di solito è il paragrafo delle ricerche filosofiche mi dimentico eccola qui così l'avete non sono abituato a usare powerpoint l'avete capito per cui mi dimentico che l'ho preparato solo col covid ho cominciato devo dire a lezione a usarlo allora il paragrafo 43 delle ricerche filosofiche è uno dei più citati di Wittgenstein dalle ricerche ed è quello in cui secondo molti ci sarebbe la teoria del significato come uso paragrafo 43 dice per una grande classe di casi di utilizzo della parola significato anche se non per tutti i casi del suo utilizzo si può spiegare questa parola così il significato di una parola è il suo uso nel linguaggio il suo uso nel linguaggio e qui vedete uso Wittgenstein usa quattro parole che più o meno dicono la stessa cosa gebrauch uso verwendung impiego unwendung applicazione benitzung utilizzo secondo alcuni studiosi quando parla di uso gebrauch si sta riferendo più solo alle parole quando parla di impiego si sta riferendo agli enunciati ma credo che sia difficile trovare uniformità in questo e neanche ci interessa trovarla allora vi faccio notare una prima cosa Wittgenstein dice per una grande classe di casi di utilizzo della parola significato il che vuol dire non per tutti i casi non per tutti i casi allora questo può essere considerato una specie di segnale di Wittgenstein per dire guarda che qui non ti sto proponendo una teoria immaginate uno che dice per una grande classe di casi anche se non per tutti i corpi seguono la legge della gravitazione pensate a uno scherzo cioè la teoria non può dire per una grande classe di casi la seconda cosa che vi faccio notare è che se voi usate la 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 traduzione italiana corrente quella di Piovesan e Trinchero trovate dove qui è tradotto spiegare che è il verbo Erklaren trovate la traduzione di Erklare con definire e definire vi dà subito l'idea di una mossa teorica addirittura di solito definire è individuare le condizioni necessarie e sufficienti per stabilire se qualcosa cade o non cade sotto un determinato concetto se leggiamo terza cosa se leggiamo attentamente questo pezzo questo Wittgenstein ci sta dicendo non che come lui definisce il significato come uso ci sta dicendo guarda di solito se chiedi a qualcuno di spiegarti il significato ti spiega l'uso cioè non sta esponendo la dice se vuoi vedere per una grande classe di casi quando chiedi a qualcuno qual è il significato di x ti spiega l'uso di x e te lo può spiegare in determinati in molti modi per esempio dando anche definizioni ostensive che cosa significa mela non ritorno indietro quella è una mela oppure la mela è un frutto eccetera eccetera ma non sta dando la sua definizione di significato sta richiamando all'idea di andare a vedere come si spiega il significato ora per esempio chiediamoci quali casi non cadono sotto questo quando è che noi non spiegheremo il significato di qualcosa indicando il suo uso ci sono molte interpretazioni di questo per esempio uno dei più famosi studiosi di Wittgenstein che si chiama Hacker sostiene che Wittgenstein vuole escludere quei casi in cui noi parliamo di significato come il significato della vita cioè quando parliamo di significato in un senso non linguistico ma voi vedete è furbo Hacker perché se noi escludiamo solo questi significati cioè il significato non linguistico il significato della vita il significato di quest'azione eccetera eccetera identifichiamo il significato linguistico con l'uso e diamo immediatamente un'aura di tipo teorico alla cosa quindi quello cessa di essere un indicatore come dicevo io non è una non è una teoria perché è chiaro che se io voglio fare una teoria dell'uso linguistico non voglio fare anche una teoria dell'uso della parola significato nell'espressione significato della vita voglio fare una teoria del significato linguistico cioè una teoria semantica io ho una piccola idea su cosa intende Wittgenstein non l'ho mai trovata sostenuta da nessuno ma sicuramente l'hanno sostenuta perché essere originali in queste cose è complicatissimo ed è questa per esempio io posso chiedere qual è il significato di una parola intendendo il significato etimologico quasi sempre il significato etimologico non ha nulla a che fare con l'uso noi usiamo le parole e pochissimi di noi conoscono il significato etimologico delle parole e a lezione faccio spesso questo esempio io mi chiamo Luigi nei libri che riportano il significato dei nomi Luigi come tutti i nomi Ludovico Ludwig eccetera eccetera e qui notate Luigi Ludwig si dice che vuol dire valoroso in battaglia vi assicuro che non che non ho partecipato a nessuna battaglia e quando ho fatto il servizio militare sono stato messo cinque giorni in prigione per aver buttato via con ribrezzo la bomba a mano che mi veniva passata durante le esercitazioni questo vi impedisce di chiamarmi Luigi ho parlato tantissimo devo ancora arrivare ai giochi linguistici adesso arrivo direi proprio di no quindi questo potrebbe essere un piccolo esempio non sempre pensate per i continentali lo dico tutte le pagine dedicate da Heidegger a altri alle etimologie delle parole verità alessia che sono un tentativo almeno a livello filosofico di riportare il significato etimologico a un uso filosofico come dire sii coerente almeno quando fai filosofia quando usi le parole con l'etimologia ma non so se questo è Heidegger però altrimenti perché gli interesserebbe tanto l'etimologia se non andasse a condizionare il linguaggio allora qui Wittgenstein nel paragrafo 43 riassumo la lezione di questo paragrafo non ci sta dicendo qual è la sua teoria del significato ma sta facendo una constatazione fenomenologica in gran parte dei casi quando chiediamo a qualcuno di spiegare il significato si richiama il suo uso ovviamente il significato può avere anche altri utilizzi ma in gran parte dei casi questo succede lo dice anche all'inizio del libro blu per chi magari tra i più giovani vuole iniziare a leggere Wittgenstein consiglio di iniziare dal libro blu che è la cosa più accessibile in cui dice non invece di chiedere che cos'è la lunghezza chiedi come si misura in questo caso invece di chiedere che cos'è il significato chiedi come si spiega il significato e vedrai che molte volte il significato si spiega mostrando l'uso che facciamo delle parole insegnare il significato di una parola a un bambino è insegnargli come usarlo nelle circostanze appropriate banale dite voi è ma contro la filosofia che cade nelle confusioni filosofiche bisogna richiamarsi dice Wittgenstein alle banalità che insegnare il significato è insegnare l'uso spesso che spiegare il significato è spiegare l'uso qui salto questa roba qua che volevo una Wittgenstein è consapevole che esiste una distinzione tra saper usare le parole e descrivere l'uso ecco perché noi possiamo usare tranquillamente da filosofi e non filosofi le parole cioè parlare la nostra lingua e quando facciamo filosofia invece cadere nelle trappole nei tranelli della filosofia Wittgenstein fa un esempio che è un po' forviante dice noi sappiamo come usare gli occhiali se voglio vedere uso gli occhiali ma posso non sapere quali sono le leggi ottiche che fanno sì che le lettere aumentino eccetera perché è forviante perché in questo caso c'è qualcuno che sa a cui posso delegare la spiegazione di come funziona il linguaggio in realtà in filosofia non c'è nessuno che sa queste cose ed è il lavoro filosofico che porta a mettere in luce l'uso del linguaggio visto che manca poco arriviamo ai giochi linguistici ha detto giustamente Marco che rispondere alla domanda che cos'è un gioco linguistico non solo forse è poco wittgensteiniano ma se interroghiamo Wittgenstein con questa domanda troviamo delle risposte diversissime tanto è vero che ci viene in mente ci viene subito la reazione di dire ma come fanno stare assieme tutte queste cose ma Wittgenstein non è preoccupato perché Wittgenstein non è preoccupato di definire che cos'è un gioco linguistico da un elenco di giochi linguistici da un elenco di giochi linguistici vi anticipo una cosa visto che il tempo è tiranno come si dice il tempo è tiranno poi provocherebbe tutta una serie di confusioni filosofiche che lasciamo da parte uno dei giochi linguistici che elenca Wittgenstein è pregare vedete che differenza c'è tra il dire che pregare è un gioco linguistico e dire che la religione è un gioco linguistico eventualmente la religione è un numero spropositato di giochi linguistici cioè l'uomo che si dichiara religioso fa un mucchio di cose prega quello che può essere diverso oppure ringraziare certo diverso è ringraziare il gioco ringraziare Dio diverso è ringraziare un nostro amico si può ringraziare Dio come fanno i salmi anche se tutto ci va male anche se tutto sembra andarsi male insomma non si ringrazia un nostro amico se ci mette sempre in queste difficoltà lo si ringrazia quindi anche qui dire quando Wittgenstein dice ringraziare è un gioco linguistico se poi noi andiamo vicino andiamo a vedere gli usi beh ci sono molti giochi linguistici dentro il ringraziare e quando dice immaginare un gioco linguistico vuol dire immaginare una forma di vita qui la forma di vita come il gioco linguistico non è una cultura una un sistema concettuale vuol dire che per capire che cosa vuol dire in quel determinato contesto ringraziare devo vedere altre cose chi è che ringrazia di che cosa ringrazia che tipo che tipo di ringraziamento è devo per così dire allargare un po' il campo e allora la stessa parola grazie detta in un contesto grazie Dio è diversa grazie a quello che mi fa entrare nella sala per la conferenza eppure vedete di nuovo la parola è la stessa Wittgenstein i giochi linguistici ecco perché non mi piace la deriva che ha preso i giochi i giochi linguistici sono stati introdotti per richiamare ai particolari e invece sono stati spesso usati da certi interpreti per generalizzare invece nel libro blu che vi citavo prima Wittgenstein dice che una delle cose che caratterizzano la filosofia quella filosofia che lui critica ma che in cui anche cade per così dire è il disprezzo per il caso particolare il disprezzo per il caso particolare ecco i giochi linguistici guardare non solo al linguaggio guardare perché guardare al linguaggio se io vi dico guarda al linguaggio a che cosa guardate voi dov'è che guardate se vi dico guarda al linguaggio guarda quello che noi diciamo ai vari contesti in cui diciamo guarda al linguaggio non vuol dire niente dal punto di vista dove guardi è un po' come guarda dentro di te ma dov'è che guardo per guardare dentro di me Agostino la veritas habita interiore ominis ma dove vai per andare dentro di te voi siete mai andati dentro di voi poi c'è anche la battuta sì certo il radiologo è andato dentro di me quando mi ha fatto l'attac ma questa è una battuta che però Wittgenstein siccome Wittgenstein dice che gran parte un libro di filosofia potrebbe essere composto di battute di spirito beh forse una battuta così anche stupida come quella del radiologo potrebbe anche forse essere stata apprezzata da Wittgenstein allora primo punto poi vi dico il secondo e dopo chiude il primo punto è questo quando sentite la parola gioco linguistico in Wittgenstein non solo evitate di chiedervi che cos'è il gioco linguistico e andate a vedere le varie cose che Wittgenstein dice sul gioco linguistico ma evitate soprattutto per così dire di utilizzarlo in uno spirito che io ritengo non Wittgensteiniano per generalizzare pensate uno dei Apple che era molto importante negli anni 60 70 parlava del gioco linguistico della filosofia e questo e criticava Wittgenstein per aver parlato di tanti giochi linguistici senza porsi il problema del gioco linguistico trascendentale della filosofia che sarebbe il gioco di tutti i giochi quindi figurarsi la seconda cosa è che Wittgenstein credo di avervi dato l'idea per quello sono partito da lì era interessato soprattutto a un metodo filosofico a un insieme di metodi filosofici che permettessero di dissolvere le confusioni e gli errori filosofici a un certo punto negli anni trenta proprio a Moore disse l'unica cosa che ho fatto di nuovo ed interessante è di introdurre un nuovo modo metodo in filosofia è come quando nella scienza è stato introdotto il metodo nella scienza moderna un po' troppo ambizioso ma insomma un metodo in filosofia i giochi linguistici sono parte di questo gioco allora vi leggo per terminare il passo in cui Wittgenstein mostra chiaramente il carattere non sostanziale ma metodologico della nozione di gioco linguistico i nostri giochi linguisti chiari e semplici giochi linguistici non sono studi preliminari in vista di una futura regolamentazione del linguaggio non sono una sorta di prima approssimazione che non tiene conto dell'attrito e della resistenza dell'aria piuttosto i giochi linguistici ecco qui fungono da termini di paragone che devono gettare luce per mezzo di somiglianze e di somiglianze sulle condizioni del nostro linguaggio cioè i giochi linguistici che costruisce Wittgenstein sono dei piccoli modelli lui che era amava l'architettura aveva anche progettato la casa della sorella pensate al modellino in polistirolo che fa l'architetto adesso non li fanno neanche più perché si fa tutto con i computer penso ecco quello è un modellino ma nessuno di noi pensa che il condominio costruito riproduca esattamente tutti i caratteri di quel modellino per esempio nei modellini ci sono degli alberetti messi qua e là poi quando viene fatto il giardino il giardino viene lasciato al giardiniere che li metti in un altro posto quindi la posizione degli alberelli per esempio è indifferente oppure se è un modello vuol dire se io dico costruisci un condominio secondo questo modello se la casetta è alta se il condominio nel modello è alto 10 cm pensate al costruttore che costruisce una casetta alta da 10 cm cioè vuol dire che sono importanti le proporzioni non l'altezza l'esempio che fa Wittkis è se io mando qualcuno con un campione di tessuto a comprare un tessuto e dice voglio un tessuto di questo voglio questo tessuto quello è il campione del colore non delle dimensioni adesso ci sono più quelli che vendono tessuti sono pochi ma se uno ritorna a casa con un pezzettino così dello stesso colore dice sì ma ti chiedevo lo stesso colore ma di 5 metri il che vuol dire che lì in quel campione è importante il colore non le dimensioni il che vuol dire che quando noi costruiamo un gioco linguistico perché gran parte dei giochi linguistici sono costruiti immaginati noi costruiamo dei modelli che servono più o meno a gettare luce come dice Wittgenstein rispetto al problema che abbiamo di fronte se pensiamo che tutto sia così ti costruisco un modello che mette in luce ti fa vedere che le cose possono essere colà nelle sue lezioni che era più esplicito diceva in fondo quello che voglio fare diceva ai suoi studenti è questo se finora hai visto le cose così io ti mostro che possono essere viste anche colà i giochi quindi non c'è una filosofia dei giochi linguistici c'è un metodo dei giochi linguistici e i giochi linguistici è quel metodo che ci permette di affinare la nostra vista filosofica e per esempio vedere differenze dove normalmente non le vediamo ma anche vedere affinità dove di solito non le vediamo ecco se d'ora in avanti evitate di dire che la politica della religione sono dei giochi linguistici ho raggiunto il mio scopo grazie a tutti 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 grazie a tutti